Spida tra Battaglione e Power Ranger con il punteggio di 9 reti a 1 a favore dei ragazzi del Power Ranger che conducono il gioco senza davvero mai rischiare. Paoli effetto alla rimessa, sberleschi nei confronti del tipo del gioco avversario che sicuramente non è da apprezzare per una serie minore che deve crescere. La rimessa lunga a favore del Battaglione con questa palla che viene ancora intercettata dai ragazzi dei Power Ranger. Power Ranger davvero dominatori del gioco però in questo frangente vediamo la giocata che viene effettuata con una sensazione che però si perde alta. Ricordiamo il punteggio 9 reti a 1, una partita davvero a senso unico che ha aperto le danze già dall'inizio del primo tempo. Una partita che sicuramente il direttore di gara Mauriello non ha avuto problemi a tenere sotto controllo, comunque relativamente calma anche in virtù del punteggio. Il Battaglione comunque ci prova adesso con questa nuova giocata offensiva. Ricordiamo Battaglione con le casacche gialle, quindi interrompiamo il nostro collegamento ricordando il punteggio 9 reti a 1. Partita davvero a senso unico e i Power Ranger davvero dominatori del gioco.